Buonasera a tutti dal ristorante La Sirena di Santa Teresa di Riva vicino da Ormina venite a mangiare il pesce che è buonissimo anche la pizza c'è Carla che ci sta girando il video il sole mio che bella a tutti dal ristorante c'è Carla che ci sta girando 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 grazie 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 grazie